La Virtus Bologna è stata sconfitta a Belgrado? No, la Virtus Bologna è stata umiliata a Belgrado. Il Partizan ha vinto 90-62, una partita che non c'è praticamente mai stata. E diventa anche difficile parlare dei singoli, perché nessuno ha giocato una partita sufficiente, qualcuno ha giocato una partita da quattro. Le giustificazioni? Partiamo da lì? Manca Toco Schengheglia. Per carità, impatto difensivo, qualche opzione in attacco. Ma, da che io sappia, non aveva la maglia numero 23 del Chicago Bulls. Non si chiamava Michael Jordan. Si chiama Toco Schengheglia e darà quello che potrà dare. Ha una squadra che giudico nella sua interezza, e uso un termine secondo me consono, inadeguata. Questa squadra, in questo momento, non solo fa fatica a pensare di poter guardare ai play-off, ma sembra una squadra assolutamente fuori contesto. Se l'altro anno in Europa vedevi una penetrazione, uno scarico, adesso regolarmente li trovi dei muri di fronte, sotto canestro Zaitè, che aveva un suo impatto assolutamente asfaltato dal lungo avversario. Teododic, con la giustificazione della condizione fisica, mi sembra ben lontano dal giocatore visto nelle stagioni passate. Magnon, praticamente un panchinaro. Bellinelli, può giusto provare a tirare qualche tripla, e peraltro spesso non vanno. Qualcosa da Bacoi, tiri liberi, qualcosina da Wins, il resto, Lundberg, Mikei, poco, poco, poco. No, signori, la Virtus in questo momento non è sufficientemente competitiva. Una Virtus che in quattro partite di Eurolega non è mai arrivata a segnare 70 punti. Il Partizan, che nelle prime tre partite aveva preso 94 punti di media, ne ha presi 62. Quindi, signori, poche parole. Nessuno vuol fare un processo completo alla Virtus. La Virtus, continua a dire, è una squadra che secondo me in campionato arriverà in finale scudetto, con una Milano che peraltro si è salvata miracolosamente col Bayern di Monaco perché due tiri liberi sopra di uno l'avversario del Bayern fa 0 su 2 in lunetta, se no probabilmente Milano perdeva anche la partita, con un Bayern che la Virtus ha battuto per la cronaca. Però la verità è che questa Virtus in Europa, come io dico dalla prima uscita con il Monaco, ma dicevo anche prima di quella partita, non è, secondo me, ancora pronta. Cerchiamo di riprendere il passo, cerchiamo di non sfigurare, perché adesso l'obiettivo non sono i play-off, sono cose molto semplici gli obiettivi che la Virtus deve raggiungere. Mantenere un pubblico vicino anche in Europa e non fare più brutte figure. Mantenere un pubblico vicino anche in Europa.